Ciao a tutti, sono Alessio Marzilli, d'Italia e lavoro sul mio progetto finale M.A. che si chiamano Chameleon. Sono un D.O.P. su un film di Alessio e mi forse a sentire qui e a raccontare la storia. Sai che i chameleoni non cambiano la sua pelle perché le aree che hanno in realtà cambiano le sue emozioni? La storia parla di Andy, questo ragazzo giovane che deve tornare a casa dopo che suo padre, Abraham, un famoso allevatore di camaleonti, muore. Abraham lascia tutto quanto in eredità ad Andy ma Andy non sa come gestire questa situazione poiché il padre non ha mai insegnato nulla al figlio per quanto riguarda allevare i camaleonti. Passando del tempo con questi camaleonti, Andy inconsciamente diciamo che ha adottato una sorta di sindrome da camaleonti. apprendendo la sua relazione con il suo padre anche apprende la sua stessa, è molto complesso. Nella storia seguiamo la sua scoperta e la sua personalità, la sua sessualità e la sua strada per diventare un adulto, credo. Mi sono laureato nell'Accademia di Belle Arti di Frosinone in Media Art e dopo questa esperienza ho vinto una borsa di studio per studiare all'estero. Vi sto chiedendo questo aiuto perché tutti quanti i video che ho fatto fino ad ora sono sempre stati rigorosamente a budget zero. E per una volta vorrei cercare di fare questa sorta di upgrade e quindi vorrei vedere le mie idee e anche quelle diciamo un po' più difficili da realizzare prendere vita. Sotto questo video nella descrizione potrete trovare un link nel quale vi posso mostrare tutti quanti i lavori che ho fatto fino ad ora per farvi un'idea generale di cosa uscirà alla fine di questa campagna. Spero di riuscire ad arrivare al traguardo previstato e non vedo l'ora di mostrarvi il risultato finale. Grazie a tutti, ciao!